Hai fatto altri sport oltre al calcio? Sì, ho fatto basket un anno. Come esulti quando fai gol? Cassio! Sì! Aspetta, meglio vincere giocando male o perdere giocando bene? Vincere giocando male! Oh, via! Tre giocatori del Bari per provare la tua fede? Flora Flores, Galano e Caprodossi. Chi? Caprodossi! Chi è il tuo idolo? Messi. Roberto Badi. Cosa parliamo qui, ragazzi? Qual è il tuo soprannome? Il King. Il King? Non tocca piano, come va il King? Perché mi chiamo Arthur. Qual è il giocatore che ti piacerebbe affrontare? Tu sei un'attaccante? Io sì. Qual è il difensore che ti piacerebbe affrontare? È uno che comunque è in difesa, Sergio Ramos, perché ha un stile gioco unico, è piquet. E sono difensori, mi importa ovviamente buffone. Dicci qualcosa nel tuo dialetto. Magna il pomodoro e stasera. Il tuo giocatore preferito delle United? Delle United. Cool, show, show. Quanto sei alto? Un metro e quaranta tre. De Gea o Neuer? Neuer. Neuer. Meglio more o bionde? More. 6-2 contro l'uno davanti al portiere. La passi a compagno o lo scarti e fa il gol? La passi a compagno. Hai fatto altri sport o tra calcio? Nuoto e rugby. L'ultima Premier? Manchester City. Sì, buongiorno! Stai sbagliando tutto però. In che anno è stato fondato l'arma Juventus fan? Ah, questo non lo sa nessuno! 1.906 regga. Che è stato il capo cannoniere dell'ultima serie? Higuain. Higuain l'anno prima. Tniaco. Ah, Dieco, Dieco, Zeco. L'ho detto! Chi ha vinto l'ultimo pallone d'oro? Rondaldo. Chi? Rombaldo. Rambaldi? Rombaldo. Rambaldo? Le squadre sono squilibrate. Al ventesimo ti rendi conto che voi siete molto più forti. Allora lì mi diverto. Il mista è bravo a motivare da 1 a 10? Sì. Quanto? 5 o 6. Beh, non granché direi. Vabbè, bravo, bravo. Rispetto al trimista... Chi ha vinto l'ultima Europa League? Il Manchester City. No, il City non lo faceva. Il Manchester andava bene. L'altro Manchester che è? Manchester United. Bravo. Chi ha vinto l'ultima League? Il Real Madrid. Bravo. Grazie a tutti.